ciao a tutti ragazzi bentrovati sul canale qui il cappello di paglia oggi siamo con il nostro fratello presentati qua nicolas incredibile e siamo pronti a reattare oggi video un po un po così però sono venuto a conoscenza di due video di anto show che secondo me meritano di essere actati in video soprattutto perché sia io che il buon incredibile siamo venditori di yugi noi sappiamo effettivamente come si guadagna con questo gioco vediamo se le sue perle di saggezza saranno all'altezza di com'è realmente la realtà effettivamente o se addirittura possono aiutare anche noi stessi a migliorarci allora adesso vi faccio vedere abbiamo due video ovvero come si diventa ricchi con yugioh e tecnica segreta questa è importantissima è la tecnica segreta che sa solo lui per diventare ricco con yugioh ecco cosa devi seguire andiamo in ordine cronologico prima il più vecchio poi il più nuovo perché può essere che dopo c'è la tecnica segreta 2.0 entriamo in questo mondo ci piace a tutti guadagnare con le carte giocare e anche giustamente anche farci tornare i nostri investimenti noi giochiamo e rientriamo delle nostre spese quindi giusto però non non è una cosa che possono fare tutti però vogliono i giusti consigli quello a cui educhiamo nel nostro gruppo dei campioni davvero il gruppo dei campioni over voi potrete imparare anche a fatturare più di quanto fattura lui centinaia e centinaia di studenti incredibile è l'accademia del duellante un'accademia che adesso esce pure la carta promo giapponese con l'accademia quello sarà il nuovo logo della grande accademia degli over per forza ma io guarda che no io già ce l'ho come field center lascio perdere invece mio cugino ce l'ha come santino quando noi diciamo investite investite nelle carte nei deck lo diciamo per voi certo non per no non per se stesso assolutamente il suo portafoglio non non si incrementa se lui vende cosa cosa quella carta o quel deck ok dice che tra uno due anni non valga il doppio sì sì basta pensare che il drago alternativo stava a 25 euro tre anni fa sta a 25 euro pure ora ed è l'unica carta costosa ma ok se dovessi fare una riflessione seria sì sì posso già stopparlo e anichilirlo dopo 55 secondi o devo aspettare che finisca il video no 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 è questo l'obiettivo è stroncargli tutte le sue idee no perché il problema è che hai già detto una cosa che è proprio un paradosso enorme perché tu non puoi mai investire con yugio se sei un giocatore perché yugio implica che ogni due tre mesi i mazzi devono cambiare bannet che entra mazzo che stronca soldi che perdi funziona così cioè magica ad esempio costa un sacco di soldi però i giocatori sono improntati a spendere quei soldi perché se spendi mille euro per un mazzo hai mille euro di mazzo yugio spendi 300 euro e il mese dopo devi spendere altri 300 euro e dopo altri quattro mesi in altri 300 quindi funziona così no 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 ma il problema qua è che lui sta vendendo un mazzo come fosse il mazzo più forte di sempre che sarà sempre forte in più come un mazzo che nel corso del tempo aumenta di valore cosa che è impossibile nel senso abbiamo visto roba ricrescere di valore esempio il dante da duea era sceso su una ventina d'euro adesso in prima sta di nuovo a 70 ma ci sta carta iconica mazzo forte ok il drago bianco occhi blu che lui sta spacciando come mazzo più forte di sempre effettivamente non non ha la stessa forza nel senso che capisco l'alternativo che carta fighissima c'ha poche stampe e così ma nel momento in cui la carta verrà stampata in più copie in una versione comune o super quella secret ovviamente manterrà il suo valore ma rallenterà la sua crescita e non credo che sia quella carta che nel corso del breve tempo possa risalire nuovamente basti pensare che fondamentalmente yugioh è un gioco di carte collezionabili quindi c'è l'aspetto collezionistico è l'aspetto di gioco cioè tu non puoi giocare un mazzo meta e spera che diventi da collezione cioè se tu investi investi in carte da collezione come delle ultime team prima edizione carte ghost carte da tp qualsiasi cosa tu voglia collezionare lob fredoni metallici qualsiasi cosa ti piaccia però certamente non è che può venire tutto quanto in un calderone sono due cose diverse no ma anche il fatto che la carta meta aumenta di valore se ha la max rarity esempio prendi ttt oppure prendi access code attualmente si è notato che nonostante le ristampe le carte abbiano mantenuto il loro valore e quelle nel tempo possono crescere ma perché sono staple sono carte fortissime generiche che hanno la possibilità di crescere una carta di un mazzo è difficile che cresca se non è quel mazzo assoluto carta che è rimasta nei cuori di tutti cioè esempio aspetta un attimo rose prismatica è salita ma perché era una prismatica e il mazzo è rimasto nel cuore di tutti anche se metà della fanbase lo odia metà lo ama infatti ma poi appunto ad esempio è la staple quella che va a aumentare il valore del mazzo cioè tanto la staple è una cosa su cui tu puoi investire ma non è che fai un mazzo solo gli staple non esisterebbe il mazzo il fulcro del mazzo qualunque tu voglia giocare cosa non so prank kids necroz adesso cos'è che si gioca non mi ricordo neanche più shadow qualunque mazzo tu giochi fondamentalmente il fulcro del mazzo ha un hype e ha un valore nel momento in cui è meta è giocato è vivo il mazzo muore valore diciamo che si va a far benedire fondamentalmente poi vabbè le staple le carte iconiche le max ride ad esempio shadow smette di essere giocato e sparisce dalla circolazione costrutto ultimamente difficilmente perderà troppo valore sicuramente scenderà ma non a picco come magari potrebbe fare una carta bandita che ne so yugioo si chiama trading card game proprio per questo motivo vi siete mai chiesti perché trading sia una parola molto molto simile a quella che si sente per quel che riguarda la borsa gli investimenti perché è così un modo per guadagnare anche in modo molto importante è investire in carte collezionabili l'unico modo di investire è ovviamente muoversi alzarsi allora allora trovare una similitudine tra il trading che è una cosa e trading card game che significa gioco di carte collezionabili è una cosa che sai prendi un pugnale te lo infilzi su per il cuore e tiri su cioè hai lo stesso effetto quel dolore che ho provato sentendolo è lo stesso che avrei provato infilzandomi questo coltello fuori il mazzo prendilo siamo semplicemente ai giocattoli per i bambini oggi esce mi ricordo ai tempi nostri c'era action man no c'era la versione di action man 2001 no e poi l'anno dopo c'era l'action man 2002 quello 2001 che fine faceva no ho buttato via se oggi io avessi l'action man del 2001 magari l'indepinto magari dico troppo per un bambino però è ancora nella scatola poteva avere un gran valore vogliamo parlare delle console benissimo aspetta qua ha detto una cosa assolutamente sbagliata poteva avere un gran valore nel senso se il brand che sta dietro a quella cosa se il prodotto è un prodotto di qualità aumenta di valore altrimenti non aumenta nel senso le carte di pokemon vintage sono aumentate di valore perché tra le ce le avevano i bambini che l'hanno rovinate tra il fatto che hanno dei belli artwork che hanno un effetto sulla carta che il cosmolo che a tutti i collezionisti piace questo ha portato a un aumento del valore di quelle carte ma perché sono quelle carte le carte di digimon di vent'anni fa anche l'indepinte o di dual masters attualmente valgono poco o niente come anche le carte di yugi della bandai cioè il set completo non vale tanto ma perché effettivamente non cioè non c'è stato mercato qualcosa vale ma effettivamente non puoi pensare che guadagni milioni se una cosa è praticamente perfetta dopo anni basti pensare esempio stupido viene in mente quando ero piccolo io ma sicuramente quando eri piccolo tu io c'erano i bakugan no sì sono passati una decina d'anni abbondanti dai bakugan e attualmente non valgono niente cioè bakugan che costavano 10 15 euro a pallina adesso si vendono a un euro due quindi nel senso il brand ha avuto un attimino la sua fama ecco l'ata piccola l'audience non sarebbe più calcolato nessuno ed ecco che nessuno li colleziona quindi sì l'investimento ha senso ma se tu è un po come effettivamente le azioni in borsa cioè tu perché investi quei soldi magari in una valuta e magari nelle azioni di un determinato brand cioè magari se tu prendi un brand che non è di successo quello che tu hai versato piano piano lo perderai se invece tu investi su azioni di un brand importante che sai che possa accrescere il tuo investimento lo fai è la stessa identica cosa però ecco certo uno lo può fare anche in giochi giocattoli per bambini bambole cosa ne so vestiti c'è pure chi fa reselling di vestiti cioè questa è una cosa molto generica cioè lui sta facendo un discorso che è giusto però deve andare più sullo specifico Yuki mi auguro che adesso lui spieghi un attimino nello Yuki specifico perché poi non puoi neanche parlare di gioco di carte in generale perché io non ho moltissima esperienza con altri giochi fuori Yuki io ad esempio di Magic non capisco nulla di Pokémon so abbastanza non quanto Yuki e posso dire che sono giochi completamente diversi ok sono carte ok sono collezionabili ma si vendono in maniera completamente diversa funziona in maniera diversa con quei giochi lì quindi mi auguro che vada dritto al punto adesso no 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 ma io ho un amico che colleziona Duel Masters e le carte le paga veramente pochissimo e sono giochi che da noi hanno avuto successo cioè è un gioco che ha avuto successo una cosa come 15 anni fa per poco perché dopo il gioco è stato cancellato anche se in Giappone tira ancora avanti ed effettivamente le carte non hanno un granché di valore ma basti pensare i box del set base di Harry Potter fino a 5 anni fa te li lanciavano dietro adesso hanno acquistato un po' di valore ma solo perché c'è stato il boom delle carte collezionabili e è un brand chiamato Harry Potter Nintendo 64 sempre immacolato versioni beta di alcune saghe alcuni videogiochi valgono tantissimo sì sempre lo stesso ragionamento cioè valgono tanto perché sono brand che sono di successo è come paragoni la Playstation 1 con un drago bianco occhi blu da lobby in prima edizione quello è un buon paragone non puoi paragonare la Play 1 adesso con un drago bianco occhi blu di 15 ristampe dopo che non si è inculato nessuno non siamo abituati a prendere a preservare ad avere una sorta di magazzino se vogliamo noi in casa non siamo abituati ah escludendo il fatto che se tu fai così ti praticamente rovini la vita perché passi tutto il tempo sperando di poter guadagnare soldi quando in realtà non li guadagni e ti rovini totalmente l'esperienza cioè noi prima di essere venditori siamo giocatori collezionisti quindi lo facciamo perché ci piace il gioco e lo portiamo avanti con passione per esempio chi ora aveva per dirvi il drago bianco da lob oppure il drago bianco da la leggenda del drago bianco la prima espansione di Yu-Gi-Oh lob e la leggenda del drago bianco sono lo stesso set se vent'anni fa prendevate quella carta la mettevate via nel cassetto oggi sicuramente ringraziereste il vostro io di vent'anni fa sì ma il fatto che non è un Charizard set base prima edizione un drago bianco occhi blu in prima in italiano quanto vale attualmente? 1500 euro? 2000? sono 2000 euro ragazzi non... è una carta che è invendibile anche a quelle cifre non... cioè non pensate di fai soldi così perché cioè non è vero ma soprattutto se investi l'investimento signori torna ricordate l'investimento torna sempre non è vero assolutamente ma in nessun campo succede una cosa del genere cosa pensi di questo video? soprattutto dell'ultima frase un investimento torna sempre l'investimento torna sempre? non devo venire a dirlo io che è una frase sbagliata perché di per sé allora il contenuto del video alla base di quello che dice ci sono anche delle riflessioni che possono essere punti di spunto importanti però sicuramente ha sbagliato il titolo o perlomeno ha sbagliato il contenuto cioè però analizzando quello che abbiamo visto io direi che il titolo è sbagliato cioè qui non sta dicendo nessuna tecnica segreta sta dicendo guarda se voi avreste fatto questo vent'anni fa a quest'ora avreste fatto questo ora se invece avreste detto magari alla fine consigliando di dire oh adesso se c'è un gioco che secondo voi andrà per esempio Force of Will adesso è già mezzo morto come brand come gioco ma chi ci ha investito magari l'ha fatto dicendo oh ma magari tra dieci anni sto gioco ha fatto il botto questi set varranno un sacco di soldi io mi procuro dei box sigillati può avere il suo perché però infatti tutti gli investimenti ritornano no perché chi ha comprato Force of Will o ad esempio simile il gioco come può essere qualsiasi altro adesso ho fatto un esempio non è rientrato sicuramente di quei soldi poi magari oh per qualche strano motivo tra altri dieci anni il brand è rientrato in attività è diventato famoso da che era sepolto nelle ceneri possendo di poi diventa di valore quella merce che tu hai acquistato però boh non saprei cioè secondo me inutile dire che è stato un po' uno spam questo video per quello che andava a far lui il problema è che qua ti dicono guarda tu compra quello che ti pare che tanto l'investimento ti torna compra da me perché te posso procurare quello che ti pare poi fate il segno della croce sperando che poi tra 25 anni l'investimento ti torna quando probabilmente tra 5 smetti vendi tutto al minimo hai speso una barcata di soldi e hai dato retta a una persona che fondamentalmente te l'ha truffato secondo me allora poi il mercato delle carte in generale cioè mi è capitato di vedere appunto i prezzi che lui propone parlando seriamente sono prezzi abbastanza gonfiati però nel senso che tu puoi mettere un prezzo tuo nel senso che cioè il prezzo che cos'è? il prezzo non è nient'altro che quello che è la richiesta di un prodotto e il suo effettivo valore in questo caso una carta non è che ha un effettivo valore può avere una rarità quindi il prezzo è la rarità che ha un oggetto e la richiesta che ne consegue ora Ash ad esempio Ash Blossom non è una carta che è rara è una carta che la richiesta è più alta della quantità per cui il prezzo si è alzato a dismisura però di per sé ci sono molte carte rare magari che ne so prendo un esempio set vecchio come può essere perdoni metallici o comunque sia da perdoni metallici ci sono varie secret però è ovvio che c'è la carta secret che varia di più cioè il Jinzo varia sicuramente di più di un'altra carta secret da perdoni metallici perché Jinzo è più richiesto che l'altra secret magari a parte questo io andrei a vedere pure l'altro video per vedere se effettivamente ha aggiunto qualcosa a quello che ha detto perché comunque hanno solo un mese di distanza e due andiamo adesso con questo secondo video che ovviamente ci spiegherà come diventare ricchi con Yu-Gi-Oh per un po' destrutturare questo paradigma secondo cui noi truffiamo prendiamo i soldi e scappiamo le robe sembriamo una lupia beh un Salamangreit 350 euro sì o 250 non ricordo oppure Blue Eyes che ha vinto il mondiale ovviamente senza le mining se non sbaglio forza dobbiamo partire da questo assunto fondamentale trading card game card game ci arriviamo tutti no trading che cosa vuol dire trading ok benissimo collezionabili benissimo perché alle pubblicità giustamente quando eravamo piccoli tutti a dirci gioco di carte collezionabili perché dire trading era ovviamente per dei bimbi piccoli parlare del trading allora non vorrei dire ma non è la stessa frase che ha detto nel video precedente è decisamente la stessa cosa di per sé però vabbè magari adesso svilupperò il concetto in maniera diversa ha fatto la premessa e adesso vediamo cosa ci dice escludendo il fatto che prima era un video di 6 minuti che per me sono stati tipo 12 questo è da 12 non che tu sia ignorante come no io mi ritengo ignorante ignoravo tutti questi processi no no io sono proprio ignorante investire non è che sono razzista è proprio che schifo io acquisto un'azione negli ultimi periodi c'è stato GameStop molti che cosa fecero acquistarono delle azioni quindi una parte di azienda di GameStop a 4 euro si sono trovati qualche mese fa se non sbaglio che valevano 500 euro ti lascio immaginare a fronte di un investimento di 40 euro per 10 azioni poi che cosa se ne è ricavato dopo o Yu-Gi-Oh vale esattamente adesso sta dicendo che vale esattamente la stessa cosa non è vero perché il mercato di Yu-Gi è molto più lento di quanto può essere il mercato di Pokémon e il mercato proprio azionario reale perché un'azione può il giorno dopo valere 10 volte tanto o crollare totalmente cioè di per sé cioè qua stiamo parlando di un'azione di qualcuno che deve prendere un prodotto e rivenderelo cioè tu sei un venditore cioè non puoi non puoi paragonare la figura del trading a uno che è un investitore a uno che fa il venditore nel senso il venditore deve avere un aspetto che sia da investitore perché se tu non sa investire vendi poco e vendi male però alla fine quello che tu fai è vendere è fare il venditore quindi è una professione differente secondo me cioè secondo me fare la similitudine ci può stare come punto di vista ma non si possono paragonare pari e pati le due cose secondo me no no ma infatti cioè ad esempio tu gli shifter quanto l'avevi pagati all'epoca allora io l'ho comprata all'europeo in belgio a bruges pagai 50 centesimi l'uno ne comprai 10 a 5 euro quando in realtà partivano da 10 centesimi quindi pagarli 50 centesimi era pure tanto però mi sono detto ma questa carta ha un buon effetto secondo me si giocherà ancora io addirittura non vendevo giocavo ero un giocatore però dico oh questa carta mi piace c'era questo che ne aveva 10 e l'ho comprata a 5 euro le ho vendute cioè ne ho ancora 3 e ne ho vendute 7 le ho vendute a 10 euro l'una perché adesso stanno 10 adesso ho cominciato a vendere quello si può chiamare investimento perché io l'ho fatto dicendo no questa carta qui un giorno si giocherà poi nel senso che io l'ho comprata dicendo un giorno si giocherà non un giorno varrà i soldi parliamoci chiaro io l'ho fatto dal punto di vista da giocatore quindi si parla anche lì uno lo fa per soldi lo fa per chi gli piace cioè io conoscendo il gioco essendo giocatore ho detto questa carta un giorno potrà servirmi poi è successo quello che è successo la quarantena ha cambiato un po' tutte le visioni di molte persone mi sono ritrovato a fare questa cosa qui però nel senso di per sé non è che sono un investitore ho detto questa cosa potrà servirmi la prendo adesso che sta di meno poi ovvio la richiesta come dicevo prima fa sì che il prezzo si possa alzare questo è matematico quindi una carta che è stata stampata due anni fa che non ha ristampi poi anche qui nel senso che il gioco di carte non può essere pagonato a un trading perché nel senso non è che se tu investi nelle azioni del McDonald c'è la ristampa del McDonald nel senso è diverso lì ti è andata proprio a culo diciamo in quanto la carta siamo arrivati nel 2021 che se gioca nell'arco di due anni non ha avuto ristampe cosa molto strana e quindi ovviamente la carta è salita di prezzo perché uno non si trovava due era forte tre non c'è ristampe però attenzione da un punto di vista di investimento era un investimento sensato in quanto se ci fossero potute essere ristampe difficilmente quella versione non sarebbe stata la max rarity in quanto è secret ok anche lì cioè sarebbe sarebbe salita lì di prezzo ma non così tanto eh ma ormai io vedo che se vogliamo parlare di mercato di Yu-Gi-Oh basta vedere access code che il max rarity ormai è sempre comunque sia meno svalutato il fatto che escano delle versioni più comuni la svaluta comunque di meno rispetto a qualche anno fa no 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 io dico se è una carta che partiva da 10 centesimi ovviamente la ristampa sarebbe avvenuta prima dell'aumento del valore quella secret poi quando la carta sarebbe iniziata ad essere giocata ovviamente la secret non ti arrivava a 10 euro l'una ma ti arrivava può essere a 3 4 perché comunque c'era la comune e poi vorrei precisare una cosa questo investimento è stato fatto nell'arco di due anni cioè sono passati due anni hai avuto fortuna o un'intuizione giusta e hai guadagnato o tutte e due o tutte e due che è importante no no ovviamente però non puoi pensare che con tutte le carte va così nel senso shifter ha avuto un suo perché yowe no e yowe ancora no io ci credo in yowe allora io gli informo tutti quanti che io possiedo 47 yowe e un giorno varranno 2 euro vista ora come ora nicolas ha speso quant'è 40 euro di yowe si 40 euro di yowe ok avrà senso il suo acquisto sì no forse perché effettivamente la carta è crollata di prezzo c'ha un suo FTK quindi può essere in un futuro ipotetico che possa servire ma attualmente è stato un investimento totalmente sbagliato cioè tutti i soldi che aveva guadagnato con gli shifter l'ha perso con gli yowe quindi non prendete per vero quando vi dicono acquistate qualsiasi cosa perché tutto aumenta di valore assolutamente non è vero prendo una carta che oggi vale 10 ci rivediamo tra 10-20 anni varrà 100 o magari anche 2 3 4 500 euro oh ragazzi ma sapete che anfra dell'avidità da lob in inglese sta solo a 10 euro incredibile è una carta che ha oltre 20 anni quindi se la compravate 20 anni fa a 50 centesimi ora avreste guadagnato 9 euro e 50 sopra poi se le vendete sul market ci smenate 5% di tasse questo si che è un investimento dai ragazzi ma che stiamo ad ascoltare se ne ho magari un play set se ne ho 10 copie se ne ho tante e poi cominciamo a parlarne poi cominciamo a il problema è che dovresti avere la carta giusta nel senso sono tante le carte che escono annualmente partiamo dal principio partiamo dal passato che sono oggi un po' gli esempi che più abbiamo oggi forse forse le carte hanno 20 anni cominciamo anche ad assistere a dei valori molto pregiati per esempio il drago bianco da lob e l'hai già detto il drago bianco uscito in secret con la famosa art che a me non piace a me continua il drago bianco da lob non è secret è ultra raro in lob le secret erano drago tricorno gaia il cavaliere e basta solo queste due erano le secret gaia il cavaliere la fusione tu potresti dirmi Anto come faccio a saperlo come faccio a sapere che tra 20 anni questa carta farà così tanto come fa a questo il rischio c'è il gruppo di campioni over che te lo dice è un rischio che vale assolutamente la candela 20 anni fa alcune carte si capiva che sarebbero state molto molto preziose intanto Anto per favore dimmi attualmente su cosa posso investire perché avevo comprato 52 copie di yo se si tratta di un investimento di 1, 2, 3 anni o massimo 5 anni uno ti può anche dar retta ma non puoi pretendere in generale su qualcosa che le persone dicono ah vabbè sono loro guarda che se io tra 20 anni ci guadagno va bene subito cioè funziona così se non c'era la pandemia i prezzi rimanevano costanti cioè esempio il drago bianco occhi blu da lob in ex in italiano sta a 400 ma sapete perché ve lo spiego io dove sono spariti tutti i draghi bianchi occhi blu ultra da lob in seconda li ha comprati dei pokemon collector perché gli piacevano effettivamente quindi se andate sul market li trovate in inglese che partono tipo da 60 70 euro e in italiano che partono da 400 ma non perché la carta sia salita di prezzo ma perché lui le ha comprati tutti ma nel senso poi effettivamente c'è anche il fenomeno di payout cioè anche qui perché si parla di quanto effettivamente vale una carta cioè spesso capita che uno pensa vabbè la carta sul market non c'è non ce l'ha nessuno la spara una cifra altissima sai quanti ne vedo basti pensare esempio stupido alla mascherina starlet in italiano che ce n'è una sul market ok ce l'ho solo io quindi è un pezzo che non si trova uno può dire ok tanto se non la vuole deve per forza prenderla da me però nel senso la carta ha un prezzo nel senso il prezzo cos'è quanto una persona è disposta a pagare per avere quel pezzo questo si parla nel senso che esempio stupido ieri ho ritirato un teschi evocato in prima edizione per quanto attualmente non ce ne siano sul market quella è una carta che massimo si vende sui 200 euro attualmente ok sopra i 200 euro devi trovare uno che è veramente disposto a spenderci tanto e la vuole assolutamente perché se no 200 è il suo prezzo ora se non ce ne sono non è che adesso io la vado a caricare a 400 ok cioè ma massimo che posso fare è metterla a 250 e poi magari se uno mi fa un'offerta valutarla ma se la metto a 400 non posso aspettarmi di venderla ok le siglette che uscivano avevano un pull ratio veramente erano veramente rare lì veramente la rarità delle carte ho preso la musica aspetta aspetta pull ration vabbè lascia che adesso gli errori di dicitura aspetta un secondo si chiama pull rate tanti tanti anni fa oggi possono comporre un tesoretto davvero incredibile e questo è il discorso signori che dobbiamo traslare anche in quest'epoca oh finalmente stoppa stoppa i processi nella ma lo sai che se metti l'acqua dentro una pentola apri il gas accendi il fornello aspetti mezz'ora si scalda incredibile sempre eh oh ma lo sai che se probabilmente alle due di notte vai davanti allo specchio giri e con le luci spente dici Mary Blady Mary Blady Mary Blady e lo urli alla luce arriva tuo padre che ti saccagna di bastonate stai vecchio la vita sono molto molto semplici sono un po' come i trucchi di magia sono semplici sono però assolutamente affascinanti perché nessuno li sa sempre quello il discorso prima operazione importante scusate un secondo ha detto che nessuno sa questi trucchi come lo sa nessuno tutti lo sanno cosa non ricordo neanche più cosa stavo dicendo prima operazione importantissima stra bellissima fighissima acquisisci carte del passato in americano acquisisci carte del passato in americano sai cosa penso delle carte in americano vedi queste due dita me le infilo in gola finchè non arrivo qua giù e poi sbocco a me non piacciono assolutamente quindi non sono assolutamente d'accordo perché non è le carte in americano che ti fanno guadagnare cioè le carte in americano piacciono all'europa gli americani vanno matti per le carte in italiano a Yu-Gi-Oh non si sa per quale strano motivo forse magia nera no allora il motivo è uno solo noi abbiamo una foilatura differente da quella americana a noi piace la loro a loro piace la nostra faccio ovviamente la lingua la lingua è più diffusa quindi le carte sono anche più commercializzabili no? in tutti i paesi per tutti questi motivi ma sai che le carte in inglese costano meno di quelle in italiano? oppela non lo sapevo è una cosa incredibile non per tutto ogni tanto varia però molto spesso se cerchi sul market carta in italiano venduta da venditore italiano prezzo più alto rispetto a quelle inglese tipo in forse forse perché se non in Italia è più richiesta forse no eh ma probabilmente esempio stupido in forse in italiano sta a 84 in inglese sta a 77 venduto da italiano poi ovviamente la carta inglese ha più mercato e cazzi e mazzi però effettivamente almeno in territorio italiano la carta italiana la venda più di quella inglese poi vabbè se parliamo di cose da collezione un altro paio di maniche cioè a volte l'italiana che vale di più a volte l'inglese però sono le lingue più costose si puoi acquisirle in italiano se ti piacciono puoi acquisirle in inglese in tedesco puoi acquisirle come vuoi ma se vuoi farti ricco l'americano non posso urlare come fai a diventare ricco con le carte in tedesco scusa nel senso come scusa? no lui ha detto prendi le in americano in italiano in inglese anche in tedesco sì ma se compri le carte dalla germania in tedesco le pagherai poco ma c'hai un pacco e mezzo di spedizione da dove pagare il problema è che proprio le carte in tedesco sono brutte il market è un sito che in Europa lo comandano i tedeschi siamo tutti d'accordo che ci siano anche più venditori tedeschi non a caso il venditore più grande del market junk space ground come che si chiama che è tedesco secondo me ci sono tanti venditori tedeschi molti sbustano il materiale tedesco è normale che la carta tedesca abbia più quantità sul market di conseguenza essendoci tanta quantità la gente per vendere abbassa sempre il prezzo la mette sempre a meno per venderla prima quindi ci ritorniamo spesso in carte secret appena uscite che per esempio ecclesia la virtuosa prendiamo un esempio in cru qua ci sono 10 errori di differenza tra lingua inglese e italiana lo stesso vale per sky prison sky prison c'è una differenza di prezzo incredibile ma basta vedere anche all'uber all'uber dei despia sta a una cosa come 15 euro di differenza e su un playset sono 45 euro cioè spavere tipo 50 euro su un playset quindi però allo stesso tempo uno dice io spendo di più ma non la voglio in tedesco banalissimo ma devi fornirti delle carte che non sono più sul mercato ehi ma tu puoi rifornirti dal più grande fornitore del mondo ovvero Antoshow ed entrare anche nel suo fantastico gruppo degli offer oppure qua sotto in descrizione trovate sia il sito di Magic Corner che è il mio link di Car Market quindi scegliete voi ah le carte mie costano di meno le ghost ok le ghost oh si ok yes vorresti dirmi una sega adesso se 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 il che che si io intendo le ghost dal cagli vero le ghost dal 2008 in giù c'è qualcosa di sbagliato c'è qualcosa di sbagliato eh perché nel 2006 c'era gotto lago rosa nera ghost c'è lo stardust dragon ghost tanta roba signori ovviamente si anche sì io ho uno stardust ghost in seconda non se vende raga non se vende non pensate di poter acquistare carte ghost e di poter far soldi perché non se fanno i soldi con le carte ghost posso solo dire una cosa? aspetta se fanno soldi con le carte da meta ovviamente pagate il prezzo giusto non pensate di sbustare e poi riguadagnare soldi e niente io ragazzi possiedo la bellezza di 64 ghost e diciamo che ne sono fiero ma per venderle cioè ne ho venduta una in due anni che vendo e io non faccio prezzi esagerati tutt'altro cioè è quella che ti sei ripresa? che poi è quella che manca ridere un ragazzo dopo un mese che se era stufato gliel'ho ritirata con la percentuale perché comunque sia per quanto fosse stata mia in passato ci dovevo sì sì no riguadagnare no ma intanto è inutile me l'aveva pure smintata perché non è più near mint tra l'altro mi tocca vendola come excellent quindi sarà ancora più un mattone da dar via le ultra più dagli anni dieci in poi hanno acquisito molto molto valore non posso sbattere sulla eh? caro il mio antosho non è che dagli anni dieci le secret sono aumentate di valore perché ci sono attualmente secret che valgono la modica cifra di aspetta eh prima dico il nome della carta ragazzi conoscete Gufoneve? perfetto vale un euro! e ne ho sbustate due nel case sai quanto ci ho guadagnato? una l'ho venduta a 5 e l'altra a 2 discorso gradazione devi trovare delle carte che siano state toccate poco e dimostrare che siano state toccate poco come si fa a dimostrarlo? ci sono delle persone pagate per gradare le carte cosa significa? bisogna stare attenti al fatto che uno non si seghi e la sborra sia finita sulla carta le analizzano al microscopio vedono varie impronte digitali robe varie insomma visibili o non e poi danno un giudizio sul grado di perfetto oggi una volta al microscopio ci si studiava il covid adesso si vede se c'è la sborra sopra le carte che poi se non sbaglio il PSA lo fa a mano non lo fa col microscopio e altre aziende di gradazione di cui non faremo assolutamente il nome usano uno scanner i voti vanno da 1 a 10 non è vero perché esiste anche il back label cioè un qualcosa di più del 10 testimoniare tangibilmente che quella carta non è stata toccata e meno è stata toccata più è immacolata e meglio ma lo sai che ho comprato una carta gradata da grad e e niente basta fa già ridere così lo sai che io ho fatto di tutti gli acquisti come hai fatto in due anni che vendo due sono state rinculate e una di queste è stato un ganger gradato da grad proprio lui sono carte per la quale massimizzazione in termini di rivendita tu dovrai aspettare molto una costa che dopo 20 anni viene 300 dopo 40 anni forse potrebbe stare anche a 2000 dopo 40 anni può essere che il gioco è fallito può essere che quella carta non è più da collezione oppure sei morto sotto un ponte oppure può essere che sei già morto puoi diventare più ricco del cimitero io ho un altro consiglio piccolissimo che posso dare dai sentiamo giocate ovviamente cioè se entrate in Yu-Gi-Oh solo per investire io vi consiglio di investire in borsa a questo punto apprendete ragazzi io Antoshio non facevo video di Yu-Gi fino a 4 anni fa poi a un certo punto quando ho visto che mi faceva tanti numeri e il lavoro era basso ho iniziato a investire in Yu-Gi voglio fare un attimo un paio di considerazioni tanto perché ne abbiamo fatte poche oggi escludendo il fatto che un investitore non investe solo in quelle carte perché non ha assolutamente senso tu vai solo a perdere un sacco di soldi un vero investitore non investe sul lungo periodo investe forse due carte sul lungo periodo perché dici vabbè ci può stare la compro a 200 sta a 300 può essere che ce ne posso fa 500 tra 6 anni un investitore investe su carte che sono rivendibili nel breve tempo cioè io compro a 15 e nell'arco di una settimana e mezzo devono diventare 20 faccio un esempio molto pratico io attualmente mi ritrovo a comprare spesso l'ottima in generale investo mensilmente i miei guadagni per rivendere magari un lotto di carte che sono puramente da collezione o comunque sia di qualcuno che smette di giocare a carte vecchie che hanno una vendibilità molto bassa io offro magari il 40% di quello che valgono e ovviamente rendo consapevole la persona di qual è il materiale che mi porta e gli spiego il perché lo voluto così perché magari un lotto di carte da 100 euro di roba vecchia carte da collezione uno ovviamente spesso si trova roba rotta ma quello è un altro discorso ma di per sé è un investimento che va molto lento ad essere guadagnato quindi i 60 euro me li farò in un arco di magari un anno roba da meta come entrap o carte che sono attualmente giocate la arrivo a pagare il 70 anche il 75 alle volte perché ho un guadagno immediato cioè Ash Blossom la ritiro mi giro e la do un'altra persona quindi mi sta bene no no ma guarda io quando ho comprato il case di bode per quanto ci sia andato a pari perché non c'era la starlight io ho venduto tutto anche roba veramente brutta nell'arco di un mese avevo fatto 800 euro c'è roba di lotti che c'era roba che era roba da collezione e mi è rimasta tutta lì non ho venduto niente cioè l'investimento non è comprare la carta costosa è comprare a prezzo del venditore una carta che ha una vendibilità e può ovviamente venderla a prezzo del venditore cioè non parlo dei prezzi che fanno show da venditore io parlo di prezzi reali di un venditore che lo fa come lavoro nel senso io carte che vendo su car market ovviamente non le vendo ai minimi le vendo al prezzo del venditore professionale per posizione per lingua e tutto il resto e quindi ovviamente ha senso che una carta che sta a 3 euro visto che ho tante carte caricate ho la possibilità di venderla anche a 4,50 ovviamente la carta da 3 euro non posso venderla a 7 o 10 solo perché mi chiamo Antoshone e c'è un gruppo dei bambini cioè lui sfrutta il suo pubblico non curante di come è la realtà per spillargli effettivamente soldi perché non curante non è consapevole e va bene ragazzi noi abbiamo finito spero comunque vi abbia interessato questa panoramica sul mercato reale ovviamente di Yu-Gi-Oh e non quello che dice Antoshone video perché raga noi lo seguiamo perché ci fa ride però gente inesperta ci crede veramente a ste cose e ovviamente prima di acquistare da lui passate da me passate su Magic Corner o su Car Market vi ricordo ovviamente che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i miei social per seguirmi ovunque quindi ragazzi state emisi e noi ci rivediamo settimana prossima sempre qua con un nuovo video ciao a tutti